ciao bene in questo video ti voglio raccontare una mia esperienza personale mi sono recata in Puglia recentemente e non vedevo l'ora di visitare il monte Sant'Angelo dove c'è uno dei santuari dedicati all'arcangelo Michele proprio in in questa occasione ho avuto una bellissima bellissima lezione una bella rivelazione sono giunta molto molto tardi al santuario in quanto ho seguito il suggerimento di una persona del luogo che aveva ci aveva suggerito di andare a visitare il santuario dedicato a padre Pio io questa cosa personalmente non la sentivo proprio ho detto no ma dai non potete venire qui e non andare a visitarlo ha detto un luogo molto molto importante molto caratteristico molto particolare io questa cosa non la sentivo non la sentivo non la sentivo ma mi sono fidata una volta arrivata lì ho sentito che proprio questo luogo non mi apparteneva le vibrazioni non mi interessavano proprio non era una vibrazione che mi piacesse anzi non vedevo l'ora di andarmene e sono arrivata proprio a monte Sant'Angelo molto tardi diciamo che mancava un quarto d'ora alla chiusura del santuario ebbene allora mi sono precipitata in in fondo al santuario perché si trova in una bella grotta bianca in pietra proprio scavata nella roccia c'è una lunga scalinata per accedermi e tra l'altro qualcuno del gruppo divine connection mi ha sognata proprio il giorno prima che io mi ricassi in questa visita in una grotta sotterranea bianca di pietra bianca quindi mi sembra fosse Angela e quindi complimenti ti ho anche detto sei leggente ebbene allora torniamo alla nostra esperienza allora sono arrivata lì tra felata in questo santuario mi sono mi sono seduta dove mi è stato indicato proprio dalle mie guide e ho ricevuto proprio questa informazione ho ricevuto l'informazione che è fondamentale mantenere il focus è fondamentale mantenere il focus perché quando noi non manteniamo il focus ci perdiamo ciò che è davvero importante io ho rischiato di non riuscire ad arrivare esattamente dove volevo arrivare perché mi sono fatta distrarre da informazioni che non mi appartenevano che non sentivo perché perché comunque quando noi ascoltiamo gli altri e magari loro ci trasmettono delle loro esigenze delle loro sensazioni delle cose che loro percepiscono vanno a toccare alcune leve sia nostre e magari attivate dal loro ego oppure dal loro piacere di fare qualche una buona azione che in qualche modo ci porta fuori strada noi abbiamo sempre la possibilità di sapere qual è la cosa giusta per noi perché basta ascoltarci e nel momento in cui noi sappiamo che quello è quello che vogliamo fare tutto il resto diventa poco importante anzi non importante infatti questa visita che ho fatto prima al santuario di padre pio è stata assolutamente una perdita di tempo e di focus ma è stato forse importante proprio per ricevere questo messaggio che altrimenti non avrei potuto ricevere quindi intanto fidati di ciò che senti è uno dei messaggi importanti ma questo lo sappiamo già no questo più che altro perché è un una cosa che io seguo sempre nel contempo è una cosa che mi è arrivata come rafforzativo e che forse può essere utile anche a te poi non farti distrarre dagli altri questo te l'ho già detto che magari danno anche dei suggerimenti in buona fede ma sono i loro suggerimenti non è detto che questi suggerimenti siano corretti anche per te quando tu magari hai qualche problema e chiedi suggerimenti a degli amici o delle persone di cui ti fidi non è detto che loro in tutta buona fede ti diano il suggerimento corretto tu devi sempre ascoltare come tutte le volte il tuo cuore il tuo cuore alla verità alla tua verità perché non c'è una verità assoluta ma la stessa situazione per te o per un'altra persona potrebbe avere delle risposte completamente diverse quindi mi raccomando fidati di te stesso e non farti distrarre dagli altri poi non avere mai paura di perderti qualcosa perché quando tu segui il focus vai esattamente lì dove è importante infatti se mi fossi persa al santuario di padre non sarebbe assolutamente successo niente sì tecnicamente poteva essere interessante per i mosaici eccetera eccetera ma a livello artistico a livello di emozioni a livello di vibrazioni per me era zero quindi assolutamente ininfluente quindi se tu perdi il focus invece perdi tutto perdi l'unica cosa che è veramente importante e fondamentale per te inoltre se tu hai paura di perderti qualcosa magari fai male tutto il resto ed è tra l'altro connesso ad una mentalità di scarsità perché tu immaginati tu ti trovi in un luogo e hai magari poco tempo per visitarlo cosa vai a visitare tutto è male non godendoti neanche un singolo luogo monumento qualsiasi cosa tu decida di andare a visitare oppure è meglio scegliere quelle due tre chicche che ti interessano di più in modo da potertele godere potertele gustare potertele ricordare poterle conservare nel tuo cuore vivertele pienamente e poi magari se dovessi un giorno ritornare vedere altre cose oppure se dovesse essere l'unica volta nella tua vita in cui andrai a visitare questo luogo avrai conservato non come un pacchetto di figurine tutte le immagini inutili magari di quell'esperienza perché non ti sarà rimasto niente dentro ma magari avrai conservato quelle due o tre cose veramente importanti per te e le avrai vissute pienamente e poi attenzione alla sintesi alla sintesi e a ciò che è essenziale perché se tu non non ti basi su ciò che è essenziale rischi di perderti tutto ok ti faccio alcuni esempi se tu vuoi fare tutti i cammini non farai nessun cammino se tu hai una uno zaino una valigia pienissimi di cose alla fine userai sempre le stesse cose perché sarà talmente complicato e faticoso andare a cercare le altre cose che non avrai voglia di disfare tutte le volte lo zaino la valigia quindi l'essenziale è veramente fondamentale perché ti aiuta proprio a concentrarti su quello che è importante per te non farti distrarre dalle tentazioni dell'ego perché l'ego con le sue tentazioni o con le tentazioni che sono connesse proprio alle paure quindi legate all'ego ti distrae da ciò che è veramente importante e l'essere umano è un po' così tende a fare questo quindi l'essere umano tende a farsi distrarre da tutte le situazioni che lo sollecitano nella vita e in questo modo si perde se stesso si perde quello che è importante si perde attimi di vita l'essere umano si fa distrarre da tutto ciò che lo circonda e si perde se stesso quindi spero che tutto questo ti possa essere utile e di grande ispirazione per me è stato veramente importante e anche se era un po' in disappunto per essere stata così poco in questo luogo che io aspettavo da tanto tempo di visitare in realtà questa esperienza è stata così importante proprio vissuta anche in questo modo perché mi ha permesso di ricevere tutti questi messaggi utili sicuramente a me e spero anche utili per te se ne farai tesoro e li utilizzerai nella tua vita ti saranno veramente utili a non perderti e a concentrarti su quello che è veramente importante mi raccomando perché l'essenziale e il focus sono quello che ci permette di vivere davvero la nostra vita e non quella degli altri o quella legata alle paure del nostro ego bene quindi io spero che tu sia già nel gruppo Divine Connection di Facebook se non fosse così entraci immediatamente perché questo ti aiuterà a fare tanto lavoro su di te e a percorrere un cammino congruente con quello che ti sta cercando di suggerire la tua anima e che tu sentirai veramente il tuo cammino non quello di qualcun altro ti mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao a presto